Continuano le consultazioni e gli incontri tra i vertici della Virtus Lanciano, i procuratori e gli osservatori per trovare le pedine giuste da inserire nella rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie B. Un campionato in cui si dovrà ripartire alla conquista della salvezza, dopo una stagione esaltante in cui gli obiettivi sono cambiati in corsa, fino ai play-off sfumati all'ultima giornata. Serviranno volti nuovi ed uno potrebbe essere quello di Miguel Angel Sainz-Masa, classe 93 l'anno scorso alla regina. Giocatore eclettico, Masa ha giocato anche nel Barcellona B, sia da centrocampista che da mezzala. Un giovane spagnolo che ha tutte le carte in regola, soprattutto l'età, per far parte della Virtus, che di giocatori classe 93-94 ha estremo bisogno per ottenere il minutaggio e rientrare così in un budget rigoroso. Per l'attacco, tallone d'Achille dei Rossoneri nelle ultime due stagioni, fermo restando che il primo obiettivo resta sulle mani e ducarà, si guarda anche ad Ettore Mendicino, classe 90. Mendicino è una punta di proprietà della Lazio, che ha giocato nella Salernitana, squadra dalla quale è rientrato per fine prestito Fofanà, che potrebbe essere girato al Catanzaro. Ci sono poi altre trattative in corso, soprattutto con l'Atalanta, per le posizioni di Leonardo Gatto, del difensore destro Valerio Nava e del centrocampista Roberto Gagliardini. Con il Torino, invece, ci sono contatti per gli attaccanti Matti Aramu ed il senegalese Diop. In attesa dei primi colpi di mercato, che si potranno chiudere con le firme sui contratti dal 1 luglio, e in attesa della firma di Roberto D'Aversa come nuovo allenatore, la società presenterà domani mattina la campagna abbonamenti per la prossima stagione.